Queste tre corde, per esempio, sono le tre corde di una chitarra luna. Come tutte le corde di tutte le chitarre di Universo, sono lunghe uguali, la seconda è lunga come la prima, e la terza è lunga come la prima, però questa uguaglianza si funziona anche solo perché non si sono nata sulla luna. Prova a tirare una corda. 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 C'è quel quadra che non posa. Test dell'attenzione. Qual è la corda più lunga? E la corda più corta? E la corda più media? Perfetto. Ora, guardate bene, così lo potete fare anche a casa. Prendi una corda molto corta, la mettete accanto a una molto lunga, poi ne prendete una molto media, che è quella che dà la misura. Poi un capo lo tirate su dall'altra parte. Il secondo capo lo tirate su dall'altra parte. E l'ultimo capo lo tirate su dall'altra parte. Prova a soffiare. Grazie. Visto che hai soffiato con attenzione e dovizia, dovremo avere di nuovo una corda lunga dall'inizio alla fine. La seconda corda lunga come la prima e la terza lunga esattamente come le prime due. Complimenti per aver soffiato bene perché non ti utilizzo. Grazie.